Sapevi che a Ischia la villa di Lucchino Visconti, nota anche come la Colombaia, ha riaperto le sue porte al pubblico? E oggi vi raccontiamo le otto curiosità di questo regista. 1. Nasce il 2 novembre, il giorno dei morti, nel 1906. La data della nascita, secondo lui, rappresenterebbe il suo spirito contraddittorio e a ribelle. 2. Dichiarò di essere omosessuale. 3. Il film Ossessione fu sequestrato dalle autorità perché conteneva scene di sesso esplicito. 4. Il film Rock e i suoi fratelli fu perseguitato dalla censura perché accusato di oscenità e violenza. 5. Il film Gruppo di famiglia in un interno è stato girato interamente in una sola stanza. 6. Il film Gattopardo è stato il più famoso tra le sue pellicole e ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes nel 1963. È uno dei film più celebrati del cinema italiano e ha ottenuto numerosi altri riconoscimenti e nomination in tutto il mondo. 7. Maniaco dei dettagli. Pensa che nel film Gattopardo faceva arrivare costantemente dei fiori freschi via aereo da San Rimo. L'illuminazione dei lampadari era con candele vere e addirittura c'era una squadra di lavandaie sul set per il lavaggio continuo dei guanti bianchi indossati dagli attori che si macchiavano con facilità di sudore nel caldo clima siciliano. 8. È possibile visitare la sua tomba nella villa estiva della Colombaia. Salva il video senza spendere un euro e vai a visitare anche tu la Colombaia di Luchino Visconti.